Mitama presenta i super zaini! Bellissimi! Leggerissimi! Super capienti! Robustissimi! Ehi, cos'è questo glitter? Per fortuna sono impermeabile! Illumino io! Ho la colla neo! Scusate, ero a glitterarmi! Tranquilli, ho lo schienale imbottito! Personalizza il tuo zaino Mitama con le colle glitter e neon in regalo e per ogni prodotto anche un buono cinema omaggio! Regolamento su mitama.bis Mitama, be different! Be free!